Ciao bimbi, sapete oggi che giorno è? È lunedì e abbiamo l'opportunità di iniziare insieme una nuova settimana. Allora, oggi per il laboratorio creativo ho pensato di rafforzare il concetto del cerchio. Vi ricordate l'immagine, la forma geometrica che avevamo fatto insieme? Ne avevamo fatte due, una era il cerchio e l'altra era il quadrato. Oggi però voglio rafforzare insieme a voi la forma geometrica del cerchio. Io ora vi faccio vedere, ma sono sicura che voi lo ricordate, è questa la forma geometrica del cerchio. Allora, per il laboratorio creativo, quindi, ho pensato di, invece di colorare semplicemente l'interno delle ali della farfalla, vedete? Ho pensato di riempire le ali, io adesso ne ho fatta una, però ovviamente voi fatele tutte e due, con dei cerchi non troppo attaccati e né troppo grandi, piccolini. E una volta completate le due ali, potrete ritagliare insieme ai vostri genitori le varie sagome, sempre bimbi con le forbici, sempre non da soli, sempre insieme a mamma e papà. E andremo a assemblare poi le varie parti, quindi il capo della farfalla, sopra al corpo, quindi all'addome e al torace. Sopra al capo le due antenne, che per le farfalle sono molto importanti, bimbi, perché le loro antenne hanno un senso dell'olfatto, quindi sentono gli odori in una maniera molto sviluppata. E poi, una volta che avete assemblato il capo sopra al corpo, le antenne sopra il capo, andrete ad assemblare, attaccare, le due ali sui lati del corpo. Io ora lo ritaglio e poi vi allego la foto. Ok, bimbi, spero che vi piaccia questo lavoro e vi mando tanti bacini. Ciao, bimbi, vi voglio bene!